Grazie a tutti. Sono ieri impegnati nell'area del Salto di Lugia. Partito ok, non c'è la pietra tecnica pesana. Abbiamo scattato la nuova che allunga, con il colore della tecnica menore di Messa Amaro, si pone la pietra lombarda al primo. Ci siamo, per il tuo minima, per il quartiere originario, che non c'è la minima, allunga la pietra di portata, per l'unica, attenzione, e per la pietra di C-59. L'altra dei prevenuti, Iambia della seconda F-4, arriva la prevenuta, in relazione della Vini Corsi, 9-39-38. Ci siamo, partito ok, per il quartiere originario, avete abbastanza di tutte le tensioni, per la prima parte di S-59. Ci siamo, partito ok, per il quartiere originario, per l'ultima strecchia, per la linea, per il prima parte di S-59. Per il terreno 104. Ci siamo. Per il Valperini, Montini, Indo. Salve, Maurici. Alla una delle 4 per il Campinetto. L'orocappolo, Torota. Silvone la pieta di Valano. 7'84. Ci siamo. Per il Campinetto. Federale, Timane e Balinini. Alla una potenza di schiore. Il Cozzotti è in Bello Rosa. la prima data viene morta del 68, la prima cosa messa, è confucioso. Ci siamo, un bel salghe per i ghi, le persone erano molti, a l'inizio che ha preso i tortesi, a l'inizio che ha preso i tortesi, a lunga, a lunga, a saremo molti più ristoriosi, non c'è tanto il processo stuporoso, a lì che viene da malattia della procura. Procediamo in comune di marca, di più di più venuti, e di più di più venuti, all'inizio a la parola del gestione, E' un'unità che è così interessante per l'agenda di Carese, ecco il cambiato del giudato che stanno scendo comini 9 e 18. Quattro giorni da appresiva di un'unità che stanno ben segnalati, la rete che presenta, non avanti a mangiarvi come previsto, e benissimo a dire la metà del tempo di 8 e 37. Chissiamo per Peralini Iani Perrino per ultimo, Peralini e Mastrezia, allora un po' per l'Aperino, per l'Aperino si fuori nettamente, in un po' per l'Aperino. Chissiamo per Peralini Notini, per l'Aperino, per l'Aperino, a Luzio Bucini. A parte dell'ultimo tavolato l'ultimo, erbe dei equilibri principali, con il suo corso di tempo per pernate, con passi da 1.4. Stira parte la cesta di Bannaro, da un gammio OPEC 62, quindi, otteniamo a scopo per Napolini, e lo rendiamo con Polini, da OPEC 4.